Era onestamente da un bel po' di tempo che non facevo una recensione su delle cuffie bluetooth è un settore che con il tempo si è un po' appiattito ma fortunatamente c'è qualche produttore che ogni tanto prova a dire la sua in un mercato sempre più affollato in questo caso vi parlo delle Edifier VH950NB un paio di cuffie che si posizionano in una fascia media perché costano 149 euro senza alcuno sconto in questo momento ma che hanno da dire qualcosina a tutto il mercato di Edifier se mi seguite da tanti anni sapete bene che io sono un grande fan e soprattutto avevo acquistato le bellissime Edifier Luna Eclipse già nel 2016 casse che continuano ad utilizzare ancora oggi con estrema soddisfazione che hanno un ottimo audio soprattutto in relazione al prezzo è la stessa filosofia diciamo che si può traslare su queste cuffie ma prima di continuare solite raccomandazioni iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina delle notifiche perché è davvero l'unico modo che avete per supportare il mio lavoro inoltre vi lascio il link per l'acquisto delle cuffie disponibili in colorazione nera molto bella o bianca qui sotto nella descrizione iniziamo come di consueto dalla confezione vi leggo le specifiche tecniche perché c'è l'ANC ovvero l'Active Noise Cancelling la modalità ambiente tra l'altro regolabile su sei diversi livelli vi devo dire non è che ci sia una grandissima differenza tra un livello e l'altro però tra il minimo e il massimo cambia qualcosina abbiamo un microfono con riduzione del rumore di fondo che è ottimo per le chiamate dei driver da 40 mm e la funzionalità di safe volume nel senso che soprattutto se utilizziamo le cuffie per tantissimo tempo per un tempo prolungato vanno adattare il volume in modo da non eccedere la soglia di sicurezza sono comode c'è l'LDAC è compatibile con l'IRS Audio e hanno vinto il premio per il Red Dot Design nel 2023 andiamo a sfilare la confezione che è molto minimale completamente in cartone quindi completamente riciclabile e al suo interno troviamo questa pratica pochette molto carina al cui interno ci sono sia le cuffie che alcuni accessori io non sono un grandissimo fan delle pochette ma manuali di utilizzo abbiamo questo divisore che ci permette poi di conservare meglio le cuffie una pochette con velcro che nasconde al suo interno diversi accessori alcuni ormai anche molto rari da trovare abbiamo infatti l'adattatore per poter utilizzare le cuffie in modalità cablata sugli aerei ormai praticamente estinto poi abbiamo un cavo per la ricarica da USB A a USB C e infine un cavo AUX tra l'altro con la chicca di essere AL per uno delle due terminazioni cavo AUX da 3,5 mm TRS e andiamo però a mettere tutto da parte e vediamo come sono fatte le cuffie perché devo dire mi piacciono davvero tanto c'è un'alternanza di materiali lucidi e opachi su tutta la superficie e soprattutto di diversi materiali la parte esterna è trattata in modo che possa ricordare vagamente la pelle ma ovviamente è in plastica abbiamo poi la parte superiore, quella mobile praticamente che permette al padiglione di basculare che è in plastica lucida ma non è quella plastica lucida chip che raccoglie le impronte e diventa poi brutta da vedere è proprio bella da toccare e bella da guardare oltretutto lo sto utilizzando da un po' di tempo e devo dire che non hanno riportato graffi c'è poi questo materiale molto liscio, quasi soft touch ma comunque plastica la finitura superficiale è molto bella perché ricorda quasi una finitura in alluminio con il logo di Edifier tra l'altro le cuffie possono essere ovviamente regolate poi c'è l'archetto che invece è in alluminio che dà una sensazione molto premium e in più abbiamo anche un piccolo cuscino nella parte superiore che ci permette di distribuire il peso delle cuffie sulla nostra testa sono fatte devo dire davvero davvero molto bene e soprattutto i padiglioni sono di tipo over ear non sono tra i più grandi che io abbia mai provato devo dire che il cuscino è abbastanza sostenuto si deve smollare un po' ma ha questa chicca ovvero che può essere staccato tramite alcune semplici clip in modo da poter essere eventualmente sostituito mentre sotto questa retina intravediamo i driver da 40 mm anche l'installazione eventualmente è alla portata di tutto vi faccio vedere inoltre come la memory foam sia molto molto morbida e questo è sicuramente un pregio perché una volta indossate le cuffie vanno ad adattarsi perfettamente alle vostre orecchie e già qua da spente vanno a effettuare un ottimo isolamento passivo rispetto ai rumori di fondo diciamo che messe così da spente possono già essere sufficienti per poter studiare lavorare in ambienti con un leggero brusio di fondo ma non eccessivamente rumorosi per assurdo anche in aereo oppure se stanno facendo i lavori nel condominio come vi sta succedendo e volete lavorare al pc beh potete metterli anche da spente in modo da avere un filtro la cuffia destra ha i pulsanti abbiamo il pulsante per cambiare la modalità tra noise cancelling low e noise cancelling high perché possiamo decidere se tagliare le frequenze più basse o le frequenze più alte questo una volta che ti abitui è davvero una gran bella chicca dopodiché possiamo abilitare la modalità ambiente che è quella che fa passare il suono all'interno delle cuffie per cui possiamo per esempio effettuare conversazioni con altre persone o ascoltare un annuncio mentre siamo in stazione senza togliere le cuffie e possiamo spegnerlo mentre abbiamo poi il pulsante di accensione basta tenerlo premuto e i due pulsanti del volume se teniamo a lungo i pulsanti del volume possiamo cambiare tra un brano e l'altro se teniamo premuto i pulsanti di accensione ovviamente spegniamo le cuffie ma con una pressione breve possiamo mettere in pausa la riproduzione mentre sul cuffia a sinistra abbiamo il jack aux a 3,5 mm e poi intravediamo i led e anche i quattro microfoni sparsi appunto sulla scocca della cuffia c'è anche un'applicazione minimale semplice bisogna inquadrare un QR code che ti permette poi di scaricarla non si trova sul play store che devo dire non è fatta male non mi dispiace soprattutto mi è piaciuto molto il fatto che rimane in evidenza come notifica ovviamente non è obbligatoria per l'utilizzo nel senso che tutte le funzioni possiamo poi andarle a gestire direttamente dalle cuffie ma vi permette per esempio di andare a gestire l'equalizzatore interno delle cuffie e di cambiare la modalità di riproduzione ce ne sono tre musica, gioco e teatro possiamo inoltre andare a selezionare la modalità custom in cui andiamo a regolarci il livello di tutte le nostre frequenze in modo da andarci a cucire un po' di più il suono sulle nostre esigenze abbiamo poi la ricarica rapida devo dire che sono rimasto stupito dall'autonomia complessiva che raggiunge e supera le 50 ore di fatto riuscite a utilizzarle per circa due settimane senza ricaricarle ma in più doveste scaricarle e non ve ne siete accorti la caricate ad un power bank o un power delivery in 10 minuti avete ben 7 ore di riproduzione quindi praticamente una giornata lavorativa completa com'è la qualità audio? devo dire molto bilanciata e piacevole allora non sono delle cuffie che hanno dei bassi preponderanti o degli alti estremamente cristallini il suono risulta abbastanza nella media però è un suono di ottima qualità per 150 euro devo dire che sono delle cuffie che riescono a pareggiare la loro prestazione con cuffie dal prezzo anche leggermente più alto questa è sempre stata una caratteristica di Edifier magari non è l'audio più pulito in commercio non è un audio da audiofilo non è un audio da tecnico da monitor nonostante l'azienda faccia anche dei monitor ma ricordiamoci che queste sono cuffie che devono fare bene due cose non stancare l'udito e soprattutto filtrare molto bene i rumori e devo dire che questo compito lo fanno molto bene certo sotto questo punto di vista devo dire che l'audio è leggermente sopra rispetto alla soppressione dei rumori ma devo dire che l'equilibrio generale delle cuffie è davvero soddisfacente sono rimasto però stupito dalla qualità dei microfoni con cui ho fatto diverse chiamate anche in movimento anche in ambienti piuttosto rumorosi e tutti mi hanno sempre detto cioè non hanno mai notato la presenza delle cuffie e mi hanno sempre sentito in maniera cristallina segno che le NC dei microfoni funziona davvero molto molto bene sono delle cuffie piacevoli da utilizzare sono molto leggere i padiglioni tra l'altro si ripiegano su se stessi in modo da poter poi inserire le cuffie all'interno della loro custodia sulla mia testa che è molto grande stanno davvero molto molto comode e in generale il rapporto tra prezzo e prestazioni è decisamente invidiabile ci sono cuffie che costano di più che ti danno qualcosina in meno anche a livello di qualità percepite devo dire che sui 150 euro non vedo vere rivali ne ho provate negli anni parecchie e ho provato anche cuffie che potevano essere un po' più mediose con un suono un po' sbilanciato sui bassi queste devo dire hanno un ottimo equilibrio piacevoli le puoi indossare anche per diverse ore e non danno mai fastidio che forse è il vero punto di forza di un paio di cuffie di questo tipo è ovvio che se andiamo a spendere budget molto superiori quindi sui 300-400 euro andiamo a pretendere anche delle prestazioni audio decisamente diverse ma rimanendo sotto i 200 euro credo che l'equilibrio generale vinca su avere una caratteristica magari superiore alle altre ma poi un equilibrio generale un po' diciamo non omogeneo brava Edifier vi lascio il link qui sotto nella descrizione per monitorare il prezzo più basso di eventuali sconti fatemi sapere voi se l'avete provata e cosa ne pensate e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao